11 febbraio 2017 partono i nove mesi dedicati alla cultura biturgenze con una mostra importantissima che dà il via a quello che è stato dedicato proprio dall'amministrazione al rinascimento della cultura della città ma non solo. Sì oggi parte la prima mostra ce ne sarà un'altra poi a giugno questa prima mostra propone questo accostamento inedito tra il nostro Piero della Francesca e Caravaggio. C'è un attrito quindi sullo sfondo che però può avere anche una risoluzione felice nel momento in cui viene percepito con una sensibilità con una chiave di lettura longhiana diciamo quindi quella tipica che ebbe anche Roberto Longhi e che quindi può valorizzare però pienamente sia l'uno che l'altro. Roberto Longhi ha avuto il merito di riconsegnarci un Piero della Francesca che è il Piero della Francesca interpretato e decifrato con una chiave più moderna e Roberto Longhi ha avuto anche il merito però di riconsegnarci un Caravaggio anche questo rivisto, rinterpretato e quindi grazie a Roberto Longhi noi possiamo oggi a Sansepolcro, forse l'unica sede geografica dove è possibile fare anche un lavoro di questo tipo, noi possiamo avere un percorso che coinvolge uno dei più grandi storici dell'arte e due dei più grandi artisti della nostra tradizione pittorica italiana uno è un milanese quindi chiaramente Caravaggio, quindi un milanese che viene a Sansepolcro dopo che un biturgenze era andato nel periodo natalizio a Milano, Piero della Francesca ovviamente con la Madonna della Misericordia. Si crea quindi, si rafforza anche questa collaborazione con Milano ma anche si va ad aprire il nostro museo ad una realtà che è quella non più locale, ristretta, angusta della Valtiberina ma una realtà che è quella italiana e non solo. Noi possiamo oggi, in questo percorso che abbiamo all'interno del nostro museo, all'interno di questa mostra, possiamo visitare praticamente più di un secolo di storia dell'arte e possiamo quindi vedere come si è passati dalle forme geometriche, dai volti sobri, dall'uomo che incarna anche principi filosofici quindi da come si è passati da Piero della Francesca ad una pittura diversa, innovativa quella di Caravaggio, quella che poi protende verso il naturalismo, quella che si sofferma sul dettaglio quella che coglie l'espressione psicologica quindi possiamo vedere la diversità, una diversità che come dicevo dall'inizio però può essere utile a valorizzare sia l'uno che l'altro.